Ciao perci, è il mio video e sono a fare l'unboxing di Tone Link Il mio primo amiibo Se avete visto l'unboxing di Super Smash Bros. per Uyo Sapete come ho fatto vedere un po' l'antica E diciamo come ho detto prima Quello sarà il mio dopo Comunque Nel pomeriggio Vole a prendere un link che volevo prendere da tanto tempo Vole a vedere un link di Twilight Princess Quello bello alto Che prende quasi tutta la scatola Comunque Niente Poi vediamo come si deve Questo è il resto della scatola Il mio primo vero amico Che ho mai avuto Poi mettete in pausa Per il resto Ehm Quello se avete visto il video Uno dei suoi prossimi spross Ehm Vi dico che In pratica Quello avevo detto prima E che Non so Non so se farvi vedere La parte in cui Uno skin Cioè Praticamente uno skin sort In cui si vede Che cosa succede quando si inserisse Comunque si mette un personaggio sopra il gamepad Proprio mi hanno scrammato se rinunciare i miei Doversi costumi in game In pratica Qualcosa Tipo suciare questi costumi Che vedete Per il vostro amico E non so se C'è in pro ho già visto ieri un gameplay anche se era vecchio E di small games in cui hanno messo i primi amico Comunque ho comprato Sul coso Hanno scelto Dark Link Come E come Un come costumi nel gioco Però Qua Questo build Ha Dark Link Anzi Dark Dark Tone Link E altri Altro strumento E non vedo quale Comunque Mi importa Non so perché Io me lo riesco Comunque Telecamera Vabbè Scusate Non posso posso Con il mouse No per nulla Beh Ti metto Scusate Se no Intanto non vi ho visto il prossimo unboxing A meno Quello che sono certo di fare Che in pratica Perché mi dà in light Per riprendere al lancio C'è non al lancio No ma tipo Dicono Tipo Massimo Massimo Sottomani PS Ok Qua dietro Sono attacchi vari Per cosa Qua se bene In stile Get Però Non fa Scusate Il taglio Ho comunque Muto Il tasto Questo Il tasto Formare il video Per sbaglio È così Sempre Basta Tanto Prendere il personaggio E se vado Basta Di qua Comunque Ho scetto Un link Stupendo Penso sia La scuola Penso sia Di Di Winwaker Comunque E di Comunque Un link Perché Non lo so Anche se Non credo Un Comunque Lo dicono Per Siamo Recap Un link In Winwaker For Sorts For Sorts Adventures E In Pratica In Miniscope E Altri Di Bambino Ma Non Link In Link In Not Enough Time Io Spero Faccio Link In Not Time Quello Vecchio Anzi In Un Un In Un 3D Poi Gli Detali Sono Molto Belli I Diversi Dettagli Alcuni Alcuni Sulla Web Sono Lamentati Del Fatto Che C'è Lo Stand Visibile In Un Asensione C'è In Pratica Volevano Tipo Trasparente È Già Trasparente In Un Caminera Ma Do Qualcosa Questo Presotto Non so Avere Un'operazione Aspetta Un Attimo Scusate Questa Losa Più Stupida Avrebbe Fatto Comunque Questo È Spyro 3DS Sky Spyro Di In Grandes 3DS Che Quindi Conso La Casa È Viola Sono C'è Quello Che Normale Diciamo Che Dark Spyro Io Amo Sì E Questo È In In Cosa Di Marvel Non Metto Qualcosa Che Pratica Rockery Ecco È Rocker Dragon Da Marvel In Pratica Come Altezza Sono Simili Solo Per Sento Contando Cappella Tutto Il Fatti Da Testa Per Armi Tutti Ressani Diciamo Ovviamente Poi Dipendere Anche Dai Personaggi Varchi Se Bisogna Appendere Alto Personaggio Comunque Questo Era Un Buono Unboxing Acqua Sotto Dove Dependenti Tutte Le varie Infosabotaggi Tutti Il Definiti Uno In Due Questo Del Due Nesse Infiniti Uno Ma E' Una Super Sotto Distinto In Uno Anche Se Vole Prendere Uno Ma Proprio L'ho Preso Come Tipi Varie Sempre Senti Osa E Come Base Capisco Spaglio E Queste Bene Base Però Tipo C'è Cosa Sper Dunque Mi A parte Sky A parte Scano Sol Parle Con Un box Parle C'è Sette Sette Tipo Un GDR Dunque No c'è Un altro video Dal link No Scherzo E No C'è Travo 6 E Tutto Ciao Ciao Scusate